Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa conferenza si inserisce idealmente in questa serie che abbiamo iniziato lo scorso dicembre con Valentino Catricalà. È una serie dedicata alle intersezioni, fa l'introduzione dei nuovi media nell'orizzonte estetico contemporaneo. Oggi la nostra ospite è Alberta Romano, che ci parla da Lisbona. La ringrazio davvero moltissimo per aver consentito a partecipare a questa conferenza per la sua disponibilità. Ve la presento molto brevemente. È una storica dell'arte, una curatrice di arte contemporanea. Attualmente si trova a Lisbona perché svolge il ruolo di curatrice alla Constalle Lissabon, che è uno spazio non profit di Lisbona. Avremo fra l'altro anche il piacere di poterlo visitare, anche se virtualmente, in questo ultimo giorno prima del lockdown portoghese. Ha studiato storia dell'arte all'Università della Sapienza di Roma e poi si è specializzata in pratiche curatoriali all'Accademia di Brera a Milano. E successivamente ha frequentato Campo, che è un corso per curatori promosso dalla Fondazione Sandretto Rere Baudengo di Torino, che negli ultimi anni si è imposto come una delle fucine delle nuove generazioni curatoriali in Italia. E forse questa sarà anche l'occasione per parlarne anche un po' da questo punto di vista. Ha iniziato dal 2017 a collaborare con la Fondazione CRC di Cuneo, per la quale segue le acquisizioni di arte contemporanea e ovviamente la sua attività si svolge anche nell'ambito della scrittura. I suoi testi sono stati pubblicati da riviste come Art Forum, Flash Art, Contemporanea e Kabul Magazine. Ringrazio quindi Alberta per la sua presenza, ringrazio l'Accademia di Urbino, in particolare il professor Signorile del corso di NTA, a cui idealmente questa conferenza è indirizzata, anche ovviamente Michelangelo per il supporto tecnico. A questo punto, e voi ovviamente per la partecipazione. A questo punto direi di iniziare, e quindi come ci dicevamo, visto che Alberta si trova a Lisbona, alla Custalle Lissabon, sarebbe bello che ci accompagnassi in una visita, anche virtuale, della mostra che ospitate adesso. Certo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui, per questo ringrazio Simone, ringrazio Michelangelo, ringrazio l'Accademia, e ringrazio voi tutti che volete, insomma, vi avete deciso di spendere un po' di tempo così, perché per me è veramente importante parlare con quelli che saranno poi giovani, nuovi artisti, la nuova generazione di curatori, critici, e qualsiasi altra cosa che voi vogliate, insomma, diventare, perché credo importantissimo lo scambio tra noi vecchiardi, ci metto anche Simone, così, insomma, rompiamo un po' il ghiaccio, e la nuova generazione che ha tanto da insegnare, soprattutto anche a noi, per quelle che sono le visioni del mondo e di come lo percepite voi, soprattutto quando si parla di arte contemporanea e nuove in idea, credo sia fondamentale un'interazione di questo tipo. Quindi grazie davvero, perché ci tengo, è anche importante molto per me questo scambio. Come diceva Simone, sono a Lisbona, sono la curatrice della Costalle Lissabon, e vi devo solo dire una piccola cosa, purtroppo, sempre come accennava Simone, ci sarà il lockdown nazionale a partire da domani, quindi questo è l'ultimo giorno, e ahimè potrebbe venire qualcuno a visitare la mostra, cioè di solito vengono, però oggi potrebbero essere un po' di più, perché è l'ultimo giorno, quindi semplicemente lì mi vedrete interagire anche con le altre persone per salutarle una volta qui. Però ecco, questo mi dispiace, ma non potevo evitarlo perché non sapevo del lockdown che scatta, ieri l'anno è stato annunciato. Detto ciò, mi piacerebbe davvero farvi un piccolo tour del nostro ufficio, e anche della mostra, però volevo chiedere prima, per evitare appunto di dare troppe cose per scontato, quanti di voi hanno in mente, anche a grandi linee, cos'è una Costalle? Cioè, secondo voi, questa è una domanda alla quale potete rispondere tranquillamente, senza dover per forza mentire di far finta di saperlo, perché anch'io l'ho imparato, non dico quando sono venuta qui, ma comunque l'ho imparato quando aveva l'età vostra, quindi non è una cosa che dovete sapere per forza. Però se qualcuno va di provare a dirmi cosa pensa che sia una Costalle, in chat, così vediamo un attimo che idee avete. Apro la chat. Ok, i studenti lo sapranno sicuramente. I tuoi studenti lo devono sapere per forza. Però vedo che invece non stanno scrivendo, non c'è nello spazio espositivo senza una col... Ecco, è una mia studentessa. Spazio espositivo. Non avevo dubbio, ecco. Ok, ok. Perfetto. L'edificio dove vengono realizzate posizioni, immagino esposizioni, però sì. Allora, sì, velocemente, la Costalle è proprio quello che ci ha detto Isora, o Isora? Isora, no. Isora. Scusami la pronunciation. Isora. È proprio questo, ovvero uno spazio espositivo che non ha una collezione. È di natura, come facilmente si può intuire anche dal nome, germanica, infatti le prime Costalle sono nate in Germania, ed è un modello di istituzione che appunto prevede la realizzazione di mostre sempre temporanee, ma che non prevede una collezione fissa, e quindi non c'è né nello storage né esposto una collezione che appartenga alla Costalle, né che sia incomodato d'uso, né che sia donata, non abbiamo una collezione. E quindi è uno spazio, Kunst dedicato, la parola è appunto arte in tedesco, dedicato all'arte. Ed è un tipo di istituzione che in Italia forse manca, ma si avvicina molto a quelle che sono i no profit, agli spazi no profit, che appunto non hanno, la maggior parte delle volte, una collezione intitolata allo spazio, che non sia appunto parte di, magari la collezione del proprietario, potrà anche esistere, però lo spazio di per sé non ha una collezione, come un museo, o come la Fondazione Prada, che è appunto un altro ente, però ha una collezione, e fanno delle mostre, e quindi esattamente quello. Quello che in più si aggiunge alla vita di una Kunstale è che spesso diventa anche il luogo per eventi culturali, per workshop, per produzione artistica non solo espositiva, ma anche, ad esempio, non so, editoriale, o di piccole edizioni dedicate all'artisti. Quindi a questo proposito vi faccio fare un mini tour. Ditemi se vedete tutto. Allora, parto dall'inizio. Questa qui è la Kunstale Lissabon. Questo è il nostro ufficio, quindi da dove si entra. Qui abbiamo una prima sezione dedicata a quelle che sono, diciamo, la nostra bacheca delle ultime mostre fatte. Qui vedete in alto l'Or Provo, che è stata la mostra che abbiamo fatto lo scorso febbraio. Questa qui di Zengbo, Art Forum, qui invece è la recensi promossa di Charles Benjamin. Qui abbiamo Trevor Shinizu, un artista americano. Quindi qui cerchiamo di attendere quelle che più ci sono piaciute. Di qua abbiamo invece la nostra collezione di libri da noi prodotti, perché la Kunstale Lissabon dal 2009 ha ormai all'attivo la produzione di 16 o 17, uno lo stiamo quasi ultimando, volumi, tutti dedicati ad artisti con i quali abbiamo esposto, quindi abbiamo avuto il piacere di lavorare, e alcuni invece sono specifici sul nostro lavoro. Quindi raccontano un po' le varie mostre, raccolgono testi di curatori che hanno collaborato con noi. E sono questi volumi qui, che appunto si chiamano Performing the Institutional, perché appunto, vi racconterò poi, è un'istituzione che è nata proprio dal basso e che cerca di essere un'istituzione con i fondi pubblici, ma è più una performance quella che stanno facendo, perché ci stanno appunto provando con i loro sforzi. Quindi poi ecco, diciamo, altre pubblicazioni, sempre dedicate ad artisti che hanno qui esposto. E qui invece abbiamo la nostra fantastica libreria delle edizioni. Ad ogni artista con il quale lavoriamo, chiediamo dopo la mostra se ha il piacere di realizzare un'edizione d'artista, addirittura limitata, o addirittura un pezzo unico, che poi riusciamo appunto a vendere per sostenerci. Ovviamente non rappresenta l'intero, come dire, il fond che riesce a sostenere l'intera attività della Constalle, ma è una piccola cosa che ci garantisce comunque un buonissimo sostentamento. Qui potete vedere ad esempio questo disegno, che è un pezzo unico, è di Sol Calero, questo è di Jonathan de Andrade. Qui abbiamo, ah, questo è molto bello, cerco di farvelo vedere. È un door handle, come si chiama? Maniglia. 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 Una maniglia realizzata da L'Or Provo, è in vetro soffiato, quindi anche adesso potrei anche romperla. Lasciamola lì. E eccetera, eccetera. E quindi ogni artista che ha il piacere ovviamente di realizzare un'edizione e di donarla in qualche modo alla Constalle al nostro obiettivo, ci fa dono di queste fantastiche edizioni che poi noi rivendiamo qui. Qui proseguendo, ah, vabbè, vi faccio vedere anche un po' in disordine il mio desk, è quello del direttore, che non c'è. E qui abbiamo invece il mio spazio preferito, che è la nostra piccola biblioteca. Allora, diciamo, la nostra library raccoglie tutti i cataloghi delle mostre che hanno fatto gli artisti con i quali abbiamo lavorato anche altrove, quindi non solo cataloghi prodotti da noi, ma tutti i cataloghi riusciamo ad avere appunto, che so, di L'Or Provo, piuttosto di Petit, Ritalilai, chiunque abbia sposto qui, cerchiamo di raccogliere tutti i volumi che parlano di loro, in modo tale da diventare anche uno spazio di approfondimento per giovani artisti o curatori che fanno ricerca in merito. E poi c'è anche tutta la sezione, ovviamente, dedicata ai magazine. E qui ci sono tutti i free, tutti gli art forum, non sto proprio indicando bene, non riesco, e tutta, quindi, la collezione. La cosa bella di questo spazio è che è totalmente gratuito, nel senso che molto spesso, soprattutto pre-covid, venivano tanti studenti, si sedevano qui e passavano i pomeriggi, anche perché è molto informale, abbiamo la macchinetta del caffè qui dietro di me, e loro vengono, e insomma, passano il tempo a profondello. Anche perché, una cosa importante da sottolineare, è che non esiste una vera e propria biblioteca dedicata all'arte contemporanea qui a Lisbona. quindi è sempre stato un punto interessante per giovani artisti e per altre persone che, insomma, si avvicinano all'arte contemporanea perché sanno di poter trovare i magazine piuttosto che cataloghi, anche di biennali, abbiamo varie, una sezione anche di biennali. Vi porterei sotto a vedere la mostra, però purtroppo la connessione non reggerebbe. Quindi, se non vi dispiace, vi condividerei lo schermo per farvi vedere la mostra, perché se vi porto giù sicuramente va a scatti ed è meglio vedere le foto. Tutto chiaro finora? Se avete già domande scrivetemi, non dobbiamo aspettare certo tempi prefissati, quindi se avete qualche domanda o qualcosa che non sono stata chiara chiedetemi pure. Ok, allora, vi condivido lo schermo. vedete tutti? Sì. Grazie, Sì. Allora, qui andiamo sul sito della Crustalle che è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento e vi faccio vedere brevemente quella che è la mostra che ospitiamo e poi muoviamo oltre. Ecco qui, questa è una mostra personale di Rita Sobral Campos che è un'artista portoghese che ha la sua prima mostra dal 2008 addirittura perché adesso vive a New York e quindi è stato un po' un welcome back purtroppo durante questo covid lockdown ma ecco. Lei è principalmente una scrittrice infatti dopo essere stata artista aver lavorato maggiormente come artista appunto nei primi decenni del 2000 si è data la scrittura oggi ha all'attivo tantissime pubblicazioni di narrativa e in queste sculture e in queste avrete visto anche delle delle stampe non tanto questa qui che è la mia scrivania ma le altre che sono appunto delle litografie l'artista cerca di dare forma a quelli che sono i personaggi delle sue storie e quindi per lei ad oggi con dieci anni di scrittura alle spalle fare arte vuol dire proprio costruire dare forma fisica a quelli che sono i personaggi che poi vanno a popolare le sue storie qui questa appunto è la mostra che abbiamo adesso ma ci tenevo anche a farvi avere così una panoramica veramente veloce bello switcho in inglese veloce di quelle che sono state le precedenti mostre per così ovviamente sono undici anni ormai quindi non vi farò vedere tutto qui vedete quella di Lore Provoke della quale vi ho parlato Ad Minoliti è stata un'altra mostra alla quale sono stata veramente felice di aver partecipato Atena Papadopoulos piuttosto che questa incredibile mostra di Caroline Meschita dico incredibile non tanto perché è stata fatta qui ma perché a livello proprio di ingegneria e di costruzione è stata un'opera incredibile in quanto l'artista la velatro ha chiesto di creare questa sorta di sfondamento sul pavimento che ovviamente non sarebbe stato possibile se non fosse che abbiamo costruito insieme al nostro fidatissimo tecnico questo pavimento finto che ci ha permesso di conseguenza di distruggerlo e di inserire al suo interno la scultura vedo però con piacere che non la sta caricando quindi sto parlando ma vabbè questi momenti di realness senti volendo invece fare una zoomata all'indietro sulla realtà di Lisbona perché Custale e Lissabon è sicuramente uno dei principali spazi espositivi della città che però ho visto assistito negli ultimi anni a veramente una crescita esponenziale dal punto di vista della scena dell'arte contemporanea ci sono stati solo per restare diciamo vicino a noi artisti che si sono trasferiti a Lisbona come ad esempio Pierpaolo Calzolari che fra l'altro era sempre molto legato al contesto di Urbino gallerie che hanno aperto italiane la loro sede a Lisbona come ad esempio Monitor solo per fare alcuni esempi che testimoniano di questa realtà in costante crescita e tu l'hai potuta anche appunto osservare come corrispondente di Art Forum quindi volevo chiederti una tua panoramica sulla visione di Lisbona in questo momento Sì è una realtà intanto se volete interrompo la condivisione perché avete visto insomma quello che è stato realizzare questa mostra qui poi se avrete domande ripeto sono sempre qui eccomi qua sì è una domanda interessante anche perché in molti dall'estero hanno percepito Lisbona come il nuovo me compresa perché ho pensato fosse molto intelligente venire qui fosse un po' il nuovo centro quello che sta per costituire il nuovo centro dell'arte c'è da dire che magari lo è stata più negli anni 2000 forse qui 10 15 e dopo è stata un po' più down la situazione ma come diceva giustamente Simone ricordiamo Monitor la galleria di Roma che si è esperita qui ma non solo c'è anche Madragoa che è una galleria italiana che è stata fondata da Matteo Consonni un gallerista che ha deciso di aprire qui la sua prima sede così altrettanto Pierpaolo Calzolari ma anche artisti più giovani che hanno pensato c'è un programma di studio molto molto interessante che consiglio a tutti di andare a vedere si chiama Mau Maush di Lumiere Cité che è appunto un programma di studi per artisti che ad oggi vanta veramente delle guest hall tra il suo parterre e sono veramente molto molto interessanti i workshop che tiene e quindi sì è stimolante lo è stata e spero che tornerà ad esserlo perché ultimamente ovviamente quella che è la situazione post lockdown durante il lockdown è un po' fiacca perché fare le mostre in questo momento è difficile programmarle lo è ancora di più e quindi sì è tutto un po' sottotono ciò non toglie che quando è tutto aperto è veramente piacevole perché anche visitare gli studi degli artisti è stato reso possibile grazie a un festival dedicato come era successo a Milano qualche anno fa un festival dedicato agli studi degli artisti che si chiama FEA che apriva appunto al pubblico anche al grande pubblico attraverso poster sparsi per la città gli studi degli artisti di arte contemporanea e di conseguenza anche questo chiamare a sé un pubblico non specializzato è credo un elemento molto importante altra cosa che ci tengo a sottolineare del panorama di Lisbona è che c'è un supporto da parte dello Stato che è veramente consistente questo perché ovviamente è una nazione più piccola perché ha avuto una storia di si può dire tranquillamente di coercizione legata al fascismo che ha fatto sì che tutto adesso sia in funzione della libertà di espressione di parola lo Stato vuole elargire il più possibile nei confronti di quello che per anni è stato negato e di conseguenza ci sono tantissimi fondi che vengono destinate alle attività artistiche non solo artivisive ma anche teatro danza musica e infatti la costale se esiste da ormai 11 anni è soprattutto grazie ai fondi pubblici l'85% dei fondi che noi riceviamo cioè del budget che ci permette di realizzare le mostre è pubblico poi abbiamo un unico finanziatore privato che è una collezione che ogni anno ci fa dono appunto anche di una donazione ma ovviamente se fosse stato solo per la collezione privata non ce l'avremmo fatta e quindi è tutto pubblico e il mio stipendio è pagato dallo Stato così come la realizzazione della mostra di l'orprovo piuttosto che insomma mostre del calibro bel importante nel senso l'orprovo quando l'ho esposto da noi aveva fatto da poco aveva rappresentato il paviglione Francia alla Biennale di Venezia questo non per incensarmi per dire che uno Stato che permette la realizzazione non indifferente cioè con costi non indifferenti della mostra di un artista di questo calibro è insomma uno Stato che tiene a livello della cultura e questo succede in arte perché ve lo posso raccontare ma succede in tanti settori perché ho amici ho conosciuto persone che seguono in maniera attiva anche il teatro ed è lo stesso nel senso ci sono rassegne ci sono festival adesso ovviamente tutto un po' sottotono ma come dicevo ci sono tanti eventi che vengono supportati dallo Stato e questo è per ora molto molto bello grazie grazie per questa panoramica i riferimenti che appunto stavi facendo nel corso della conversazione riguardo la situazione che ovviamente è in realtà comuna a questo punto tutto il pianeta forse ci dà l'occasione di affrontare la prima questione che volevamo discutere insieme la ragione per cui ti ho chiamato e soprattutto il tuo interesse per le nuove tecnologie e il loro ingresso all'interno del sistema dell'arte contemporanea un fenomeno macroscopico che appunto abbiamo potuto osservare tutti in questo in quest'ultimo periodo è stata questa migrazione digitale che ha visto molte istituzioni artistiche non solo musei ma anche fondazioni gallerie insomma chiunque appunto avesse un'attività in questo campo migrare appunto su piattaforme digitali e ciascuno l'ha interpretata in una maniera diversa questo tipo di condizione emergenziale e tu ovviamente come tutti noi hai potuto osservare questo fenomeno hai potuto partecipare in alcuni casi e appunto volevo chiederti cosa a tuo avviso ha comportato questo processo e che cosa ci ci resterà di questo che cosa ci resterà una bella domanda la affronteremo con calma intanto sì la cosa incredibile di questo processo come dicevi tu è che è stato sotto gli occhi di tutti quindi tutti abbiamo un'opinione abbiamo avuto modo di farci un'opinione in merito partirei col giustificare un attimo tutti nel senso che è stata una condizione così eccezionale che non ci permette di stare qui a sindacare troppo sul io avrei fatto così io avrei fatto colà perché persone abituate a non solo recarsi al lavoro ma a occuparsi dell'organizzazione di una fiera piuttosto che del mantenimento di una mostra eccetera all'improvviso sedute ma così in tutti i lavori sedute a non far niente con questo dispositivo che tutti abbiamo tra le mani è normale che magari ti può un attimo sfuggire la situazione di mano detto ciò passiamo alle accuse perché sì è stato eccessivamente è stato un incremento vertiginoso di questo materiale di questo tipo di condivisione soprattutto da parte ma non solo di musei istituzioni ma anche di artisti di curatori il panico ha generato le più diverse ah ho preso un'immagine adesso ve la condivido mentre parlo le più diverse reazioni nel senso che c'era chi organizzava live ogni giorno alle 6 chi invece ecco qui questa immagine mi dà già l'ansia mi ricorda proprio marzo e chi organizzava conferenze chi faceva nuovi progetti di racconti il coloring book non so se qualcuno di voi riconosce qualcosa tra questi screenshot che ho cercato appunto di mettere insieme stanno solo a dimostrare quello che è stato il bombardamento mediatico al quale ovviamente abbiamo assistito che non solo è stato eccessivo ma un problema basilare che ha creato e che di conseguenza ha diciamo che è stato poi la causa del fallimento un po' di questo bombardamento è che non si è pensato di riferirsi a un pubblico specifico come avviene per qualsiasi brand o qualsiasi a qualsiasi indagine di mercato anche che si tratti della della Nike c'è sempre un pubblico al quale ci si rivolge in questo caso il mondo dell'arte ha vomitato letteralmente addosso a persone a caso cioè il pubblico si era dell'arte però non si aspettava questo quindi ha fatto sì che il suo target fosse un target forzato cioè ha creato dal nulla un pubblico che non aveva richiesto tutto ciò perché ovviamente il pubblico dell'arte fino a febbraio 2020 era abituato a ricevere un post due post a settimana da ogni profilo che seguiva e invece all'improvviso si è ritrovato a casa senza fare niente e bombardato da costanti post live suoni colori e quant'altro quindi anche questo creare forzatamente un pubblico è stato anche un po' il danno più grande che poi ha portato all'implosione del fenomeno e immagino che tutti abbiate avuto questa esperienza un po' overwhelming nei confronti di quello che succedeva ma io ho trovato anche divertente spesso che l'obiettivo che si celava o almeno le parole con i quali si descrivevano questi queste azioni e questo questo modo di fare erano totalmente ossimoriche c'era chi parlava di We Care o chiamava il proprio progetto We Care o chi diceva aiutiamo l'arte non era il modo per prendersi cura non era il modo per aiutare soprattutto in un momento di difficoltà per tutti quello di chiedere contenuti gratuiti agli artisti come può essere stato qui ho degli esempi ma non sono delle accuse perché l'hanno fatto in tanti può essere stato The Art Resistance Kit piuttosto che The Coloring Book piuttosto che le interviste che venivano fatti agli artisti che erano ovviamente seduti a casa loro e che dicevano vabbè tanto lo faccio sì però quello è lavoro quello è tempo e questo ovviamente si è sottovalutato durante il periodo del Covid e ha anche dato un'immagine sbagliata a quella dell'artista un artista che come vediamo invece in quest'altro riquadro in basso a destra dove si legge disisamore caro Dario ha dato questa immagine dell'artista sempre che cercasse che avesse bisogno d'aiuto di soldi di appelli accurati e questo ovviamente non poteva che essere un po' un po' un po' e anche non particolarmente piacevole tuttavia così mi tiro la zappa sui piedi anche noi ad esempio come Kunstalle ci siamo fatti un po' prendere dal panico però quello che è successo nel nostro caso è che abbiamo deciso e vi vado a prendere così vediamo il tempo di caricarsi abbiamo deciso di realizzare un progetto anche noi perché stavamo lì senza far niente ma che non facesse riferimento in alcun modo all'arte e quindi di creare contenuti che non fossero almeno per il periodo artistici quindi abbiamo inventato questo progetto che si chiama Oops I Cooked Again che non è altro che una richiesta che abbiamo fatto a tutti i nostri amici conoscenti della Kunstalle che non solo gli artisti con i quali abbiamo lavorato ma sono i curatori gli allestitori amici nel senso persone che vengono spesso qui con i quali abbiamo un buon rapporto e a loro abbiamo chiesto di inviarci una ricetta una ricetta che fosse appunto importante o quantomeno divertente da provare e con l'aiuto della nostra fantastica designer che adesso era la nostra assistente e ora non lavora più con noi e me e abbiamo realizzato queste grafiche e più o meno ogni giorno ne condividevamo uno e ovviamente c'è la ricetta non so di nuovo l'orprovò la ricetta di adminoliti la ricetta di curatori vari e qui poi c'è nel sito le potete trovare tutti che sia insomma un compendio culinario d'alto livello però ci siamo divertiti così e abbiamo pensato che fosse la maniera più leggera di occupare il nostro tempo e quello di chi ci guardava anche perché una cosa divertente che abbiamo constatato facendo questo progetto è stata proprio quella di avere dei feedback di persone che dicono ah ok buono mi piace oggi provo a fare questo e vi mando le foto che se non altro era un modo è vero che abbiamo cucinato tutti abbiamo over cucinato ma era un modo per distrarsi sicuramente da quella che era la condizione del momento poi però ecco non sono ci sono stati anche altri progetti se mi vengono in mente ad esempio quello che ha fatto all'inizio inizio il Mambo che si tratta loro avevano una mostra che si chiamava Again and Again and Again e questa mostra Mambo scusami se ti interrompo Museo di Arte di Bologna per chi no per chi non lo conoscesse il Museo di Arte Contemporanea di Bologna sì esatto grazie per la chiosa il Mambo all'inizio secondo me ha fatto una scelta veramente molto pulita e discreta aveva questa mostra che si chiamava Again and Again and Again l'ha dovuta chiudere qui abbiamo il video e ha deciso non metto l'audio perché tanto non serve ha deciso di piazzare una telecamera di fronte alla performance che veniva attivata ogni tot minuti di Ragnar Kjartansson un artista islandese e praticamente la persona che decideva di andare a questo link che era attivo per ore ogni tanto trovava la performance ogni tanto non la trovava e secondo me era il modo più onesto di trasmettere quello che poi era davvero più o meno ovviamente l'esperienza fisica di visitare questa mostra poi ovviamente anche il Mambo lì si è un po' fatto prendere infatti se andate sul suo Mambo Channel troverete una quantità infinita di talk talk qui talk lì e anche lì è stata un attimo un incredibile ecco proliferare di di contenuti però torno alla visione e quindi ecco sì è stato tanto forse adesso con i prossimi lockdown spero che non saranno così duri però ci si penserà un po' di più al modo in cui si deve condividere materiale e al pubblico al quale ci si sta rivolgendo perché poi si crea semplicemente odio nei confronti di quello che è il mondo dell'arte che non è nemmeno il più il più amato insomma il più riconosciuto del pianeta quindi farlo venire in odio a quei pochi che ci stanno dentro non è stata proprio una grande mossa ecco diciamo questo penso poi ognuno è libero di avere questo fenomeno poi in realtà ci porta ad affrontare una questione che riguarda proprio le modalità espositive perché quello che si è cercato di fare in questo periodo è stato quello di presentare con mezzi appunto digitali progetti che solitamente avevano una loro controparte fisica mostre che magari avevano un'esistenza nello spazio fisico del museo e che venivano in un certo senso tradotte per il nuovo canale digitale in altri in altri casi invece si è cercato di produrre dei contenuti specifici per il mezzo quindi c'era un problema di traduzione fondamentale e questo ci porta in realtà ad affrontare un altro lato della questione ovvero come le nuove forme di arte che si sono appoggiate alle nuove tecnologie siano state esposte prima e anche dopo questo periodo ti faccio questa domanda anche alla luce della tua attività curatoriale non solo alla Custalle ma anche precedentemente hai curato mostri appunto di artisti che potremmo iscrivere nell'orbita dei new media ne ricordo ad esempio una perché ci sono logista di persona che Every Breath You Take che è curato alla Galleria di Marino a Napoli fra il 2018 e il 2019 quella era una mostra di galleria quindi una mostra in uno spazio fisico che però presentava progetti nati appunto dalla riflessione degli artisti sul digitale quindi quali sono a tuo avviso le problematiche legate proprio alla questione espositiva di queste forme d'arte ok una domanda che contiene al suo interno secondo me tante piccole derive quindi cercherò cercherò di affrontarle un po' tutte poi mi dite voi appunto se vi piace se vi farebbe piacere approfondirne qualcuna innanzitutto credo giusto per back to basics che ogni volta che ci troviamo a disporre un'opera d'arte un contenuto artistico un contenuto visuale ci dobbiamo sempre ricordare che appunto stiamo offrendo anche un servizio di divulgazione se lo stiamo facendo in una fondazione se lo stiamo facendo in un museo ma anche in una galleria e di conseguenza quel contenuto va esposto con tutto il suo apparato di informazioni che lo accompagnano questo è fondamentale secondo me dal momento in cui ci troviamo a dover trovare nuove forme in cui comunicare e quindi anziché produrre altro materiale fare progetti pazzi è sempre opportuno rendere fruibile e il più facilmente accessibile tutto l'apparato che costitui contestuale o di insomma di materiali utili che possono accompagnare facilmente la comprensione del lavoro e questo secondo me può avvenire sia a livello fisico attraverso libri attraverso audio qualsiasi cosa è a disposizione insomma della mostra sia attraverso quello che abbiamo l'importante è non costruire dei contenuti solo esclusivamente per la divulgazione online ma se lo si fa attraverso del materiale che è fatto per rendere fruibile e facilmente approfondibile un qualcosa è sempre un bene nel senso che questo è anche interessante non bisogna pensare che per fruire una mostra per vedere una mostra io debba conoscere poi tutto il materiale che c'è a disposizione no nel senso se io ho quella cosa che mi scatta nei confronti di un'opera e voglio approfondire a quel punto vado ad immergere in un bacino approfondito interessante di cose se quella cosa non mi ha fatto scattare niente tutto questo materiale servirà a qualcun altro quindi anche questo è un po' un evitare di sommergersi inutilmente di informazioni che non vogliamo perché non è che tutto ci fa scoccare la scintilla non è che tutto ci deve piacere così su due piedi questo è importante cioè non è che una mostra è tutto ciò che viene prodotto intorno poi detto ciò riguardo invece la tipologia di lavoro come diceva Simone è sicuramente un argomento interessante personalmente mi riaggancio all'esperienza personale a cui faceva riferimento Simone io credo che in un momento come ad esempio avevo programmato per marzo a Milano una rassegna video di artisti internazionali mi avevano detto di si ero contentissima marzo parlo di marzo 2020 ovviamente ero contentissima gacciatissima lo spazio era contento avevo avuto dei fondi e tutto l'ho dovuta cancellare e qualcuno mi ha detto ma perché non la facciamo online lì per lì rendere fruibili questi video che poi erano video era una rassegna video quindi era il materiale più facile da condividere però da buttarli nel calderone gratis che poi era il lavoro degli artisti che comunque avevano fatto in determinato tempo e non assicurare agli artisti stessi che ci sarebbe stato uno scambio qualcosa di costruttivo all'infuori di quello che appunto era boom buttarli tutti sull'internet non me la sono sentita e questa cosa chissà se la farò però ecco l'approccio secondo me va sempre anche relazionato a quello che è il contesto e al momento storico se una cosa ha senso di esistere perché c'è un bel discorso si riesce a scambiare delle opinioni interessanti avere un buon feedback da chi lo fruisce sì altrimenti fare le cose così giusto per farle non ha senso e poi ultimissima cosa che mi viene in mente quando Simone ha detto della tipologia di lavoro bisogna un po' adattarsi non adattarsi in senso negativo cioè concedersi a qualsiasi tipo di richiesta dell'artista questo ragazzi se volete fare l'artista gli artisti mettetevolo in testa nel senso le istituzioni le fondazioni non sono delle banche loro devono garantire che la vostra creatività e la vostra voglia di produrre altri lavori sia sempre al massimo quindi se voi volete sfondare il pavimento se volete fare delle cose incredibili non dovete prendere cioè non dovete avere troppe remore nel realizzarlo perché altrimenti poi ovviamente questo è umano avrete una castrazione nel pensare altre cose quindi secondo me le istituzioni che sia a livello digitale o fisico devono sempre rimettersi a quello che è il volere degli artisti sì banalmente quindi poi ecco qualunque sia il formato che sia un video che sia una proiezione 3D proiettata dal soffitto al pavimento si deve provare in qualsiasi modo a renderla ospitale all'interno dello spazio è fruibile online è un po' complicato perché ovviamente l'esperienza fisica non possiamo mai pretendere che sia totalmente sostituita dall'online questo è fisico nel senso possiamo vederlo un film senza dubbio però vederlo immersi nell'installazione con le gocce d'acqua che scendono o whatever è sicuramente più suggestivo che vederlo sulla propria scrivania con le patatine che poi non c'è niente di male però è comunque un'esperienza diversa sarete tutti d'accordo e questo questo mi viene in mente prima di trasferirti l'anno scorso in Portogallo ovviamente hai lavorato in Italia principalmente e volevo proprio interrogarti su questo perché da un lato anche se esistono figure per molti versi pionieristiche nel campo delle nuove tecnologie applicate alle arti e penso a dei personaggi come Eva e Franco Mattes che sono stati insomma hanno svolto un ruolo storico da questo punto di vista sembra un po' che l'Italia sconti una condizione di scarso interesse scarsa propensione nei confronti di queste ricerche artistiche tu hai lavorato soprattutto con le ultime generazioni che forse sono più aperte nei confronti di questo tipo di ricerca volevo chiederti una tua valutazione particolare sul contesto italiano rispetto appunto a questa intersezione di cui parliamo adesso tra arte e nuove tecnologie certo volentieri questa ovviamente ce l'eravamo preparata in modo tale che io potessi parlarvi di quello che secondo me è uno degli artisti italiani giovani più promettenti in questo ambito e quindi non a caso condividerò lo schermo e avrete modo di vedere alcune delle cose no scherzi a parte adesso questo dalla condivisione lo faccio però credo che sì piano piano ci sia sempre più un'apertura verso questo tipo di forme artistiche questi mezzi questi nuovi le nuove le nuove tecnologie queste cose strane però allo stesso tempo un'estetica che non solo in ambito artistico ma anche in ambito di moda in ambito che sta assorbendo questo tipo di estetica garantisce ad artisti che già si rapportavano con questi mezzi di avere maggiori opportunità e di essere almeno all'occhio del fruitore più accettati perché ci sono altre cose e quindi altre cose simili e quindi questo secondo me sta anche girando un po' a nostro favore a nostro insomma quella che è un'estetica più più contemporanea diciamo ma contemporaneo è tutto ciò che viene fatto nell'oggi vediamo però di condividere lo schermo perché ci tenevo come dicevo a ok ecco qua a farvi vedere invece il lavoro di questo artista che forse qualcuno di voi conosce lo spero si chiama Giulio Scalisi è un artista giovanissimo italiano Simone fammi sapere se in chat c'è qualcuno che dice si lo conosco che non vedo la chat ok è un artista giovanissimo che lavora prettamente con il 3D con la modellazione 3D e la traduce poi in video stampe a volte sculture e anche in disegni giusto per darvi un'idea del suo lavoro ho preso così qualche immagine che sono poi dei frame video e questo qui ad esempio è un video di Fontana Infinita che come diceva Simone era parte della mostra nella galleria a Napoli di Umberto Di Marino qui abbiamo un installation view come vedete ecco il modo di tradurre fisicamente un'opera d'arte che si occupa maggiormente di modellazione 3D che si esprime attraverso la modellazione 3D esiste lui aveva questo schermo qui tutti questi disegni realizzati con dell'adesivo sui muri a comporre appunto un panorama e queste che sono delle stampe che riproducono appunto i personaggi del video Giulio Scalisi ovviamente ha realizzato spesso installazioni qui vediamo anche quest'opera che ho particolarmente a cuore dove il video che lui ha realizzato che era di nuovo in 3D veniva trasmesso però su un telefonino che era un telefonino esposto all'interno della mostra quindi anche qui in modo nel senso si trova non c'è nulla è impossibile e i temi giusto per darvi così una panoramica non sarà esaustiva ma almeno a chi ha interesse nell'approfondirlo ha già delle parole chiave i temi che affronta sono molto legati alla condizione e questo dovrebbe interessarvi molto contemporanea dell'individuo che si rapporta ovviamente con la realtà aumentata che ha di fronte quindi con i social network con la soluzione scusate la solitudine che ne deriva dall'avere una vita così attiva sui social che spesso ci estranea poi da quella che è la realtà e anche come noi ci rapportiamo soprattutto il lavoro di Giulio focalizza l'attenzione sul lavoro dell'artista come l'artista si rapporta alla autopromozione di sé e questo come dicevo prima è un elemento e le aprirò così un po' a caso per farveli vedere interessante quello dell'interesse di aziende o di settori diversi nei confronti di quella che è l'estetica perché qui vi sto aprendo delle immagini che dimostrano che Giulio nonostante abbia una vita attiva all'interno del mondo dell'arte ha realizzato ad esempio un fumetto per flash art ha partecipato a mostre sia collettive che personali in alcuni degli spazi più noti italiani quindi è abbastanza attivo nonostante questo la sua estetica e il suo modo di rapportarsi con determinate problematiche hanno attratto l'interesse anche di alcune aziende qui in alto ad esempio vedete il suo spot per Gucci che ha realizzato nel 2019 invece c'è questo mino qui che balla con le scarpine di Gucci ovviamente ecco qui l'unica richiesta era quella di mettergli delle scarpe ahimè poi ognuno insomma trarà le proprie conclusioni però insomma il video è totalmente opera di Giulio qui abbiamo invece per chi la conosce un frame della GIF realizzata per l'album di Mischeta che è una cantante milanese qui abbiamo invece i suoi fumetti questo Gallina Svaldrina è gestito da Teacic un influencer molto interessante da seguire e questo qui invece Frankenstein è un nuovo progetto editoriale ancora più interessante che potete trovare ovunque perché ormai hanno una diffusione abbastanza nazionale e e hanno invitato Giulio tra gli altri appunto ragazzi a confrontarsi col medium del fumetto e lui anche ha partecipato questo perché per dirvi che insomma anche l'estetica di questo tipo come dicevamo prima riesce tranquillamente a esprimersi in settori che non sono necessariamente quelli artistici soprattutto perché appunto ecco si prestano facilmente molto molto alla manipolazione all'estetica non so risposto alla tua domanda ricordamolo sempre perché ogni tanto poi divago e mi perdo sì no in realtà poi il lavoro che ci hai fatto vedere di Scalisi ci mostra come sempre più gli artisti negli ultimi anni siano stati capaci di muoversi attraverso diversi canali e quindi presentare il proprio lavoro su piattaforme diverse non so penso a forme come ad esempio il podcast oppure quelle più tradizionali come i magazine anche cartacei che comunque hanno continuato la loro vita progetti più articolati di case editrici ecco anche da questo punto di vista come hai potuto osservare questo ecosistema che si è creato intorno all'arte soprattutto quella più vicina alle nuove tecnologie appunto fra alcune spinte verso una obsolescenza ricercata invece altre verso un abbraccio più convinto di queste tecnologie sì allora questo è interessante perché di nuovo è una medaglia da una medaglia come si diceva da doppia faccia insomma la doppia faccia della medaglia ci sono due lati un coltello insomma non mi ricordo il modo di dire ecco allora è una questione un po' spinosa nel senso che ci troviamo di fronte ad artisti che ovviamente masticano bene il mezzo e che ci si rapportano anche in maniera discreta interessante e totalmente affine a quello che è quella loro ricerca perché studiano cose simili perché si interessano di fenomeni sociali mediati appunto dai social e altri invece che si forzano questo torniamo al discorso principale che si forzano un po' dentro questi mezzi e che di conseguenza fanno della autopromozione una corsa al mostrare magari contenuti di nuovo in maniera ripetuta costante e un po' disomogenea e questo succede quando non si conosce bene il mezzo e quindi ecco come diceva Simone è interessante vedere degli approcci nuovi non tanto a questi social come instagram dove ormai c'è chiunque c'è anche mio nonno quindi nel senso gliel'ho messo io però c'è in questi questi social che sono diventati un po' di contenitori dove tutti dobbiamo essere tutti ci dobbiamo esprimere e quindi tutti ci proviamo come meglio possiamo ma è interessante guardare un po' a questi nuovi social che stanno non tanto social ma queste nuove forme di espressione che vengono usate più recentemente ha citato Simone i podcast perché no nel senso benissimo se un artista ha interesse nel parlare di un determinato argomento anche uno non podcast sulla storia dell'arte no nel senso una cosa che è di suo interesse perché no faccia un podcast di quella cosa in modo tale che avrà dei feedback avrà delle persone che vogliono interagire con lui attraverso mail attraverso scambi oppure che si interessano a quello che fa che lo ascoltano semplicemente sono dei mezzi potentissimi un altro che mi viene in mente che è ancora un po' lì nel limbo della sperimentazione è ad esempio TikTok voi direte vabbè TikTok si balla durante il lockdown ho iniziato a seguire questa ragazza italiana che si chiama Norma e il suo profilo è Norma's Teaching non c'entra niente con l'arte lei si occupa di è un'insegnante d'inglese che era un po' stufa dei metodi di insegnamento soprattutto italiani dell'inglese e ha detto visto che sto qui a casa devo fare delle cose utili per gli altri cosa fa Norma's Teaching? praticamente fa dei video è iniziato TikTok poi adesso è un po' più famosa ha vari canali e semplicemente in maniera senza filtri tranquilla disinvolta gioca sfruttando poi quelli che sono anche gli errori più consueti degli italiani e cerca di insegnare questo cosa vuol dire non tanto quello che fa lei interessante interessante che è stata la prima persona in Italia ad usare learn with TikTok come hashtag ovvero TikTok learn learning with TikTok e quindi ha un po' sovvertito quello che era l'utilizzo del balletto attraverso quello che poi è sicuramente un profilo molto seguito come il suo che adesso ha interviste in giro vog qua là che dicono che brava quanti follower ma ha anche dato lo spunto a tante persone perché no di usare quel social in maniera didattica educativa e quindi così come l'ha fatto lei con TikTok come lo fanno in molte persone con i podcast perché non provarci se soprattutto ci sentiamo abbastanza sicuri di un argomento perché non buttarsi nell'approfondirlo attraverso uno di questi canali attraverso un profilo Instagram dedicato a una cosa sola e quindi condivido tutti gli screenshot delle tv dei programmi degli anni 60 perché tu stai facendo una ricerca di quel tipo benissimo nel senso servirà in qualche modo e a qualcuno quel tipo di ricerca fare invece uno show off di tutto quello che facciamo in maniera forzata e un po' automatica è ovviamente qualcosa che rientra in dei binari che non sappiamo manco noi perché lo facciamo e quindi siamo lì a pubblicare a fare e poi magari non interessa a nessuno perché insomma è detto che abbiamo dei reali interessati se non gli amici che vabbè bravo che sei andato a vedere quello però insomma magari è un tipo diverso e quindi ecco secondo me c'è la possibilità però come dicevo proprio in principio sta a voi nel senso magari anche noi proviamoci perché no però sta proprio alle nuove generazioni nel capire come questi strumenti possono essere utilizzati in maniera un po' inconsueta in maniera diversa approfonditi e perché no sfruttati per altre tipologie di contenuti che possano essere più utili di un balletto che balletto magari può essere utile e una cosa che evidentemente non va per scusami no no scusami se ti interrompo volevo solo volevo solo ricordare Elena Costa in chat ci ricorda che effettivamente pochi giorni fa sulla Repubblica era comparso un articolo dedicato a lei proprio per segnalare il fenomeno io infatti l'ho scoperta in questo modo cioè nel senso proprio pochi giorni fa e sono andata a curiosare e mi ha colpito molto perché fa proprio tutto uno studio sulla fonetica cose che noi diamo per scontate ovvero cose dietro le quali noi ci nascondiamo alle volte lei le rende estremamente chiare molto intelligente è stata una bella è stata una bella ricerca quella che ha fatto quella che fa sì 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 sono d'accordissimo e poi gioca come dicevo e come dicevi giustamente anche tu sugli errori più consueti che non ammettiamo spesso di fare che sono queste piccole video dove lei dice my dad is not dad it's my dad so capito gioca con come è la pronunciation di qualcosa e come deve essere come noi italiani mettiamo tutto insieme e poi va come va e quindi anche questo è stato sicuramente un modo diverso di approcciare una tematica che poi in questo caso è quella dell'insegnamento e prima stavo semplicemente per concludere dicendo che ovviamente questo non deve per forza non volevo dire che qualsiasi nuovo approccio si deve esprimere attraverso podcast o sfruttamenti vari di app preesistenti ma a parte che potete crearne anche delle vostre ma se vi sentite più confortevoli con la carta stampata anche lì ci sono secondo me degli ottimi esempi di magazine di case editrici che stanno nascendo in questo periodo e ve ne posso citare qualcuno che focalizzano in maniera meno generica il loro interesse e questo rientra anche nel discorso di prima nel senso vi faccio un esempio uno che si chiama Hamam magazine o file file dal file latino greco aiuto Simone greco greco sì 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 greco e abbiamo fatto il liceo insieme è solo il più grande di me come potete notare e quindi questi magazine stavo dicendo sono interessanti a mio avviso perché focalizzano l'attenzione in ambito poi approfondendo quello che è un ambito artistico ve ne faccio vedere qualcuno partendo dall'ambito artistico loro prendono un elemento singolo vediamo un po' se mi trovo Hamam magazine ce l'avevo qui pronto piuttosto che file magazine prendono un elemento come in questo caso di Hamam e loro si definiscono fissati con la cultura del bathing culture e quindi vogliono insomma testimoniare attraverso forme di ricerca artistiche quanto sia importante rilassarsi e l'approcciare insomma un sereno bagno obsessed ecco qui we are bathing obsessed e ovviamente quello che fanno non è solo parlare del quanto è bello farsi il bagno ma lo fanno attraverso artisti che hanno una ricerca simile oppure scritti anche di storia dell'arte ne ho letto uno molto interessante sull'architettura dei bagni turchi in Inghilterra e quindi loro hanno deciso di prendere un argomento e di approfondirlo in maniera artistica e culturale questo qui invece che vi citavo prima Phile è anche a mamma è nuovissimo alla seconda edizione Phile mi pare sia un po' più in là tipo sarà già un annetto e The International Journal of Desire and Curiousity allora tendenzialmente si focalizza sul sesso però ogni issue è dedicata a un aspetto diverso questo qui era ad esempio quella che ho io qui che ho comprato era sulle perversioni e quindi ci sono quest'artista qui molto interessante Seaborg che svolge tutte le sue performance in questi abiti di latex piuttosto che racconti di artisti curatori disegni e quant'altro veramente anche questo molto molto interessante e tornerai un attimo a voi ce ne sono così come questi ce ne sono tanti anche quello che ho citato prima Frankenstein che è italiano Frankenstein Magazine che ha deciso di siccome a loro questi ragazzi sono quattro ragazzi gli piacevano i fumetti di chiedere ad artisti designer e altri operatori del settore anche scrittori insomma critici quant'altro di cimentarsi per una volta con il fumetto e artisti che sì ok sapevano sicuramente prendere in mano una penna ma non si erano mai relazionati con un comic quindi con le strisce come si si posiziona e questo è stato sicuramente una maniera molto interessante di veicolare un interesse e poi di farlo in maniera stimolante anche per quello che è il nostro modo di esprimerci magari nessuno si pensava di poter pubblicare un proprio fumettino perché mi occupo di altro invece questo ha dato la possibilità anche di esprimerci attraverso un singolo elemento che era un po' più trascurabile alla luce del fatto che non fosse la propria main attività però ecco insomma questi esempi esistono esistono anche sulla carta stampata quindi ecco non volevo fare solo l'apologia dell'internet ci tenevo grazie anche per averceli fatti conoscere nelle vesti di moderatore vedo che il tempo sta volando visto che abbiamo superato la boa dell'ora a questo punto aprirei anche lo spazio per le domande dei partecipanti potete farlo in due modi direi o direttamente intervenendo con con le vostre parole oppure scrivendo le domande in chat io poi le inoltro ad Alberta quindi a voi la parola io ne avrei alcune però quindi dovrò fare una piccola facciamone una facciamone una va bene allora no va bene due va bene due no sono curioso di sapere se il se il ruolo di curatrice si può scendere a quella di artista cioè nel senso nella sua esperienza personale se essere una curatrice in un certo senso significa anche essere artista se i due ruoli possono essere disgiunti perché dal mio punto di vista che non sono né un curatore né un artista però mi sembrerebbe che le cose non va bene questa è la prima domanda la seconda domanda e se voi ti rispondo alla prima nel frattempo sì ok la prima allora penso che sia sbagliato starci qui a dire che una cosa non entra nell'altra e che non siano conciliabili due ruoli perché questa appunto ritorniamo al fatto che sia una convenzione e quindi dobbiamo per forza facciamo i curatori disegniamo solo di nascosto no cioè assolutamente no quello che ci ha insegnato la quarantena secondo me almeno che ha insegnato a me è che se abbiamo un hobby se abbiamo una qualsiasi vocazione che non sia come dicevo prima per me Frankenstein rappresenti proprio il nostro lavoro ma cavalchiamola ma proviamoci ma sentiamoci posso citare un connazionale sia mio che di Simone che si chiama come immagino lo conosciate si chiama Maccio Capatonda di recente ho letto il suo libro e ho trovato un'ispirazione una cosa molto interessante lui racconta con un'estrema precisione e suggestione il momento in cui da piccoli da ragazzini ci si appassiona tanto ad un hobby da farlo diventare la propria missione il proprio lavoro ci si siede lì non so lui aveva l'hobby del doppiare i film quindi si metteva con due registratori in uno metteva il video nell'altro registrava sopra e quindi vabbè cose con i VHS era una roba assurda ma per lui era diventato tipo il suo lavoro in quel momento stava lì si scordava di mangiare andava in cucina mangiava un attimo e tornava a rifare quella cosa lì era piccolo ovviamente e questo stato di grazia della creazione che abbiamo avuto probabilmente da ragazzini nell'appassionarci a non lo so al ritaglio di giornali piuttosto che a qualcosa dobbiamo sicuramente non sopprimerlo mai ma non vuole essere un discorso retorico è che queste cose non vanno condannate perché fai il curatore se hai una passione falla portala avanti e se ti senti anche in qualche modo ovviamente fare tante cose alla fine questo lo sappiamo un po' tutti non ci consente di farle tutte bene però perché non provarci a sviluppare anche quelle più piccole che non debbano per forza sostituire la nostra occupazione principale però insomma ci possono dare degli spunti per poi sviluppare quella principale quindi insomma questo è fondamentale nulla esclude la mia la mia domanda nasceva dal dal fatto che se io devo selezionare degli artisti devo valutarne la qualità eccetera devo avere di mio delle propensioni delle attitudini delle cioè delle potenzialità che si esprimono in un certo modo e che mi dirigono verso certe direzioni e non altre quindi era l'altra domanda era ti verrà naturale comunque se nella tua vita vorrai fare il curatore ti verrà naturale trovarti più a tuo agio con delle ricerche piuttosto con delle altre che delle altre nel senso se ti piacciono più gli artisti che si occupano di qualcosa sia a livello etico che poi professionale che contenutistico capirai dopo un po' che ti confronti con degli artisti che quello è un po' il tuo mondo la tua comfort zone però insomma questo lo capirai facendo vai la seconda domanda la seconda domanda riguarda la specificità dei nuovi media di solito si tende a prendere e considerare i nuovi media nel loro essere digitali rarefatti collegati alla rete ad internet ma mi chiedo se nella nella sua opinione scusate il telefono mi squilla nella sua opinione i media devono continuare a ricercare la propria specificità nel loro essere digitale oppure cercare di essere di mediare di essere un ponte tra una realtà in cui c'è qualcosa che è virtuale ma c'è anche la cara vecchia realtà del senso comune fatta di fatta di cose che tangibili che si toccano e in un certo senso l'esperimento perché ho visto esperimenti come oops I cooked it again dove in un certo senso si metteva si conciliava un aspetto virtuale e un aspetto reale perché in un certo senso c'era una prassi da fare a casa che coinvolgeva l'essere umano nelle sue relazioni casalinghe nel suo fare casalinghe però ci sono altre tendenze artistiche digitali che proiettano il lavoro dei nuovi media in una esasperazione della rarefazione del distacco dalle realtà basti pensare semplicemente a realtà virtuale e realtà aumentata che sono due cose diverse per quanto affini quindi la sua opinione in merito i nuovi media devono ricercare sempre più un linguaggio specifico nel loro settore nel loro campo o devono cercare invece di mediare tra due in una realtà più complessa fatta di cose che si toccano e cose invece che stanno in un altro mondo in un iperuraneo sì guarda non credo ci sia una direzione univoca nella quale possiamo dire i nuovi media debbano andare debbano per forza dirigersi nel senso che come dici tu realtà aumentata piuttosto che real come si chiamava quel videogioco tipo The Sims dove ti immergi Second Life dove ti immergi totalmente in questa realtà virtuale fai la tua vita vivi insomma fai le tue cose con altri utenti una cosa non esclude l'altra è logico che sono tutti mezzi quindi ognuno trasmette un sentire trasmette determinate sensazioni determinati bisogni se noi abbiamo pensato un po' in maniera con presunzione che fosse il momento di cucinare perché almeno ci distraevamo e quello era il nostro modo di focalizzare l'attenzione su qualcosa c'è chi può dire io l'unico modo che ho per distrarmi è quello di immergermi in una realtà parallela nel fare le case su The Sims e non voglio sapere niente se non il cibo attraverso la flebo ognuno ha il suo modo di reagire e questi ripeto sono mezzi che ci fanno vedere delle porzioni di realtà e perché siccome è virtuale non vuol dire che non sia realtà perché in quel momento diventa la nostra realtà quindi in qualche modo anche lì ci dà un po' il polso della situazione perché tante persone rifuggono dalla realtà cosa sta succedendo e quindi sono mezzi anche quelli di lettura secondo me di quello che ci circonda spero di aver detto grazie ok queste sono altre domande Simone tu Modera sì Modera anche se qui in chat vedo che non ci sono ancora segni di vita ah ok allora possiamo raccontarvi delle nostre vacanze sto scherzando non vi racconteremo ragazzi non fate problemi a qualsiasi curiosità tipo non so come funziona qualsiasi cosa non vi fate davvero problemi con con farmi delle domande se le avete poi non portate niente Simo non hai niente da moderare se Arcangelo aveva questa serie Arcangelo ne ha altre quindi vai Arcangelo spara le tutte all'inizio della della conferenza ha usato molto spesso il termine bombardamento siamo bombardati però io non credo che il termine sia stia diventando abusato e fondamentalmente ha anche semanticamente come dire aria fritta perché lo si usa quasi come dire buongiorno è il bombardamento mediato cioè in una situazione come se ci fosse un soggetto che bombarda un altro ma in una situazione ad esempio di lockdown in cui è in una realtà complessa fatta di computer e media digitali e andare a fare la spesa al supermercato è ovvio che se io non posso andare a fare la spesa al supermercato ci sono limiti mi metto sul computer a cercare di farmi arrivare il corriere a casa che mi porta la spesa e nel momento in cui faccio questo aumento l'utilizzo dei media e in un certo senso sono stesso io che partecipo al bombardamento mediatico perché devo inviare una richiesta al fattorino di delivery che mi di delivero che mi porta il cibo a casa quindi a volte non crede che ripensare certi termini come il termine bombardamento possa essere anche un modo per rileggere cioè trovare altre maniere non consuete di usare il web i social come all'esempio di tiktok che ha fatto sì allora sicuramente ti do ragione per quanto riguarda il termine bombardamento un termine abusato al quale ci siamo appigliati per cercare di trasmettere in maniera più fedele possibile ma nessuno di noi presenti in questa chat ha vissuto un bombardamento di conseguenza ne abbiamo sicuramente abusato di quel termine e ne stiamo abusando ancora quindi sì è un modo facile forse per trasmettere un po' l'idea ma sicuramente un termine sbagliato in inglese c'è questo overwhelming che è quello che io utilizzo di più overwhelming che utilizzo di più per descrivere questa situazione perché proprio ti sommerge e forse ecco è un po' una rievocazione di essere coperti da tutto ciò ovviamente siamo artefici anche noi ovviamente prendere semplicemente magari il cibo su delivero non ti mette in quel meccanismo di produzione di contenuti e come dicevamo prima di sovraccarico di informazioni perché ovviamente stai usando un sistema stai sfruttando un come si dice un servizio però non stai producendo in maniera compulsiva qualcosa questo sicuramente quindi non è proprio la stessa cosa e poi sì per quanto riguarda il termine chapeau e ragione nel frattempo ci è arrivata una domanda sulla chat di Onult Rosanu che ci chiede come vede e considera il contesto artistico del paese in cui si trova rispetto all'Italia bella domanda nel senso allora tutto quello che ho detto prima un po' per descriverlo secondo me può avervi dato l'idea di un sistema che ha avuto delle grandi spinte che è stato sicuramente stimolante se invece per contesto artistico mi si chiede artisti e forse livello di accademie e di immagino possa essere questo una delle interpretazioni di questa domanda ma correggimi Onult se sbaglio e livello insomma artistico ecco forse c'era un pochino più fermento in Italia per quanto riguarda soprattutto il nord quindi Milano sì ok Milano Torino ma soprattutto Milano dove c'era una proliferazione assurda di spazi no profit che garantiva adesso ovviamente non so lo stato in cui versano quindi non posso usare il presente garantiva uno stimolo costante per gli studenti delle accademie piuttosto che di qualsiasi insomma scuola indirizzo artistico nel voler fare una mostra lì nel voler curare una mostra lì e questo ovviamente faceva sì che si volesse essere parte di questo sistema qui questa cosa non c'è e ne parlavo proprio col mio direttore qualche giorno fa ovvero che manca un po' l'iniziativa dei più giovani ovvero dalle accademie anche da master curatoriali non c'è poi una risposta vera e propria nell'aprire degli spazi nel fondare delle realtà e questo mette un po' il freno ai giovani perché come sappiamo le gallerie fanno sempre un po' difficoltà a supportare degli artisti particolarmente giovani lo fanno in Italia e succede anche qui e quindi gli artisti giovani hanno meno spazi dove esporre dove mettersi alla prova perché mancano appunto queste arene se vogliamo chiamarle così che sono poi no profit perché hai carta bianca fai le prime esperienze tu fai le prime esperienze il curatore e vedete un po' cosa ne esce e qui questo aspetto manca un po' però fortunatamente ci sono degli artisti se siete interessati vi posso fare una lista te la mando a Simone che ve la manda di artisti giovani sui 30 anni che si muovono soprattutto nel Portogallo ma che hanno anche delle che fanno spesso delle mostre anche all'estero perché una cosa interessante che mi è venuta in mente adesso proprio mentre parlavo è che molti artisti che hanno successo all'estero portoghesi che hanno successo all'estero hanno studiato fuori ci sono tanti artisti che hanno fatto non so l'accademia ad Amsterdam piuttosto che un paio addirittura che hanno studiato a Brera e portoghesi che hanno fatto Erasmus e poi sono rimasti a Milano per un po' altri che hanno studiato in America e poi sono tornati qui quindi c'è un numero abbastanza consistente di artisti che hanno fatto la propria formazione all'estero piuttosto che qui questo forse la dice un po' sul livello dell'accademia perché non ci sono spazi non ci sono tante occasioni e di conseguenza si cercano altrove Nel frattempo le domande si stanno scaldando Isora ci chiede a parer suo oltre alle istituzioni che hanno utilizzato anche troppo le nuove tecnologie anche gli artisti figli di questo anno saranno più propensi a esprimersi attraverso questi mezzi quindi si arriverà a una elevata produzione di videoarte e affini Isora non credo nel senso che lì sarebbe proprio una mettersi a fare delle cose che magari non ci competevano prima del lockdown nel senso che se io sono capace io sono un artista che produce video e anche perché magari sono capace con il montaggio con la realizzazione di di tutta una serie di audio video di tutta una serie di tecnologie che mi permette poi di produrre un prodotto finito se iniziassi perché c'è lockdown a dedicarmi a questo mentre prima dipingevo degli animali su tela olio su tela potrebbe essere un po' problematico se ci sono come dici tu degli artisti figli di questo probabilmente inizieranno direttamente a rapportarsi di più con queste tecnologie perché se non hanno avuto modo per un anno di recarsi allo studio e provare a vedere se riuscivano a fare i pittori o gli scultori e quindi reperire il materiale in un negozio quello in un altro e mettersi alla prova probabilmente ci sarà un aumento di quelle che sono i mezzi appunto computer tavolette grafiche e quant'altro perché ovviamente erano quelli più facilmente reperibili per saziare il loro bisogno artistico questo è una possibilità sicuramente se avranno voglia di fare gli artisti perché poi in tutto questo c'è anche da sottolineare che le condizioni economiche non saranno sicuramente uno stimolo non risulteranno essere uno stimolo per i futuri artisti curatori e quant'altro perché insomma non sarà un momento facile per nessuno nemmeno qui a Lisbona anche noi appunto prima dicevo abbiamo i fondi dallo Stato benissimo però non è detto che l'anno prossimo decideranno di investire così tanto come hanno investito gli anni passati perché dovranno riequilibrare le somme e lo stesso varrà per le accademie in Italia lo stesso varrà per genitori più preoccupati che se me e Simone hanno detto vabbè fate storia dell'arte e a voi le hanno detto vabbè sì ok va all'accademia magari al prossimo glielo dice dice guarda fai un'altra cosa e poi la situazione potrebbe aggravarsi perché quando facciamo subito a parlare di diritti di bisogno di esprimersi però quando le situazioni non sono semplici da gestire ci si deve adeguare a dei compromessi vedremo vedremo non è una situazione che nessuno può dipingere chiaramente Simone però anche tu se vuoi interagire sì no io non voglio non voglio sottrarre spazio agli studenti però se non se non ci sono domande una te la faccio te la faccio molto volentieri visto anche appunto il contesto in cui ci troviamo che è quello di un'accademia volevo toccare il punto della formazione abbiamo detto che da un certo punto di vista è una formazione tradizionale tra virgolette di storico dell'arte perché è studiato alla sapienza a Roma però poi hai pensato di specializzarti nella curatela e lo hai fatto appunto in un corso che era stato designato per questo a Brera all'Accademia di Milano e poi hai frequentato questo corso curatoriale della fondazione Sandretto Campo che abbiamo visto negli ultimi anni insomma ha prodotto una serie diciamo la maggior parte delle nuove leve curatoriali italiane proviene da lì e volevo appunto chiederti di raccontarci questa questa esperienza proprio della tua formazione ok volentieri volentieri di tutta la formazione o volevi sapere particolarmente di campo no un po' questa questa doppia realtà accademica da un lato dell'università e dall'altra della scuola curatoriale volentieri parto dal presupposto che non perché sia stata la mia esperienza però penso che sia fondamentale unire un po' le due conoscenze nel senso che quando ho studiato storia dell'arte a Roma a malapena conoscevo sapevo dell'esistenza delle gallerie di tutto un sistema di arte contemporanea nel quale oggi inevitabilmente siamo immersi sono immersa a Simone insomma chi conosce gallerie no profit a Roma di questo non si parlava a Roma si parlava di crocifisti di altari di ma bene benissimo cioè delle chiese paleocristiane potrei farvi tutta la la storia dell'opus reticolatum tuttosamente veramente tante cose ho imparato però anche lì c'è una base storica che mi ha consentito poi perché tanto non è che potessi tendere ad altro non lo sapevo che altro esisteva quindi stavo lì a studiarmi quelle cose che mi venivano date ha consentito a me personalmente di avere una base molto forte una sicurezza tale nel potermi poi esprimere nei confronti di un'arte sicuramente non facile da leggere perché avviene nel momento in cui stesso che tu la guardi quindi quella contemporanea ti mette sempre un po' in quell'imbarazzo che non sai bene di cosa hai di fronte cos'è cosa non è a cosa fa riferimento però allo stesso tempo avere un background da storici dell'arte ti dà la sicurezza di un bagaglio culturale forte al quale poter attingere Simone è molto più ferrato di me in questo è proprio un pozzo di scienza quindi io adesso qui me la canto me la suono ma è lui il vero studioso fatto sta che questo ti dà proprio una sicurezza tale da anche semplicemente per il fatto di aver studiato tanto ti riempi di contenuti quello che succede invece nelle accademie o almeno parlo della mia l'accademia di Brera è stata un vuoi fare il curatore wow ok quindi sai qual è stata l'ultima mostra che ha fatto Gagosian l'ultima di PIS e cosa c'è Gio Marconi adesso e ho detto guarda sinceramente non so almeno dove è Gio Marconi Gagosian dov'è qui cioè io non sai e lì il tutto era direzionato a farti conoscere il maggior numero di realtà di farti entrare nel vivo della questione attraverso stage attraverso esperienze che possono essere quelle di scrivere per un magazine e a Milano pululano i giovani artisti i giovani curatori che vogliono scrivere su Art Tribune per carità con tutto il rispetto però poi succede che tutti parlano tutti scrivono e comunque la qualità di quello che si produce a volte non è proprio al top fatto sta che è molto improntata sull'esperienza su quello che tu riesci a fare e fai nel mondo reale quante cose conosci però di quello che è che sta realmente accadendo e così un po' a fine è stata anche la mia formazione di campo e lì è ancora più direzionata verso la formazione professionale nel senso che non è più tanto un'esperienza quella di conoscere le gallerie e di lavorare ma diventa proprio cioè è un po' una scuola che ti forma per diventare il bravo curatore quindi lì fai storia delle mostre conosci tutte le fiere di tutto il mondo cioè ti dà un background sia nozionistico che pratico di cose che troverai utili quando farai il curatore ecco dico della costale di Sabon perché ad esempio io la prima volta che ho conosciuto i direttori della costale personalmente è stato ad Artissima dove stavo lavorando Artissima è la fiera di Torino dedicata all'arte contemporanea un'altra fiera più importante italiana di arte contemporanea che abbiamo perché loro i direttori della costale curavano una sezione della fiera e quindi anche lì ti mette in delle dinamiche di presentazione di conoscenza di quello che sarà se vorrai fare il curatore il tuo panorama molto intenso però anche lì c'era più nozionismo di quello che invece ho percepito a Brera sicuramente a Brera era proprio fai cose fai cose corri da una parte all'altra Milano non so quanti di voi l'hanno esperienziata però è un attimo così ho risposto signor Ciglia sì forse un approfondimento che volevo chiederti riguardava proprio questa esperienza di campo e diciamo delle scuole curatoriali in genere se non pensi che ci sia un processo di standardizzazione rispetto alla pratica curatoriale derivante proprio da queste metodologie che vengono insegnate e praticate nelle scuole sì sì molto probabilmente sì e questo è anche un effetto che sicuramente sarebbe cioè poteva essere prevedibile ma anche campo c'è ormai da dieci anni credo che nell'intento ci fosse la voglia di formare e di dare perché poi è il corso per curatori uno italiano più rinomato di dare uno strumento a dei giovani che finita l'accademia non sapevano bene come fare dove sbattere la testa e quindi la mente di Patrizia Sandretto ha detto facciamo un bel corso per curatori come fanno all'estero perché ce ne sono tanti altri c'è il The Apple a Amsterdam e a Parigi ce n'è uno molto buono adesso mi sfugge il nome se ti viene Simo Lillo non me lo ricordo e questo ovviamente nasce ovviamente da una buona una buona intenzione però il rischio è quello è quello che dice Simone perché canalizza gli interessi che canalizza gli studi in un determinato modo di fare di comportarsi di interessarsi a determinate cose che può sembrare molto nozionistico e un po' incanalato per certi versi sicuramente però sta all'intelligenza del singolo capire se poi svincolarsi da queste cose o rimanere lì e creare un esercito di piccoli curatori fortunatamente sono pochi nel senso sembrano tanti perché ogni anno campo ad esempio ne sforna dieci di giovani curatori però per quanto mi riguarda nella mia classe di dieci poi cinque hanno continuato perché una si è messa a scrivere una scrive benissimo però non necessariamente di arte un altro ha completamente cambiato mestiere lavoro al Parlamento e insomma ognuno poi in cinque siamo rimasti nell'abito artistico e così più o meno capita spesso e volentieri quindi è una scuola è una scuola come un'altra se fai storia dell'arte alla Sapienza di Roma ti sembreranno determinate cose imprescindibili se la fai in un'altra università magari altre si canalizza e rende un po' tutto direzionato però è un rischio abbiamo anche un sia voglia non solo loro in realtà però non so quali altri io si riferisco una domanda c'è nel senso una curiosità più che altra sono curiosa di sapere in atto pratico come si svolge una sua giornata lavorativa wow che carino ok grazie per la domanda in particolare allora pre-covid o post-covid quello che vuole penso più in una condizione normale dai ah ok allora una condizione normale ti parlo per la mia esperienza qui ma era molto simile quella in Italia senza però avere un bello ufficio largo è grande la mia scrivania qui adesso ho un posto in Italia ecco questo è un altro aspetto interessante trovare un lavoro fisso come curatore giovane non è semplice non è semplice per niente Simone lo può confermare ci sono pochi curatori in Italia che hanno sui 30 che hanno ricoprono un posto fisso fisso nel senso non all'indeterminato allo Stato però che comunque riescono ad avere uno stipendio mensilmente che hanno un luogo dove recarsi perché la maggior parte sono indipendenti che una volta fanno un progetto da una parte da un'altra volta fanno una cosa gratis per la visibilità sperando di e quello è un lavorone intenso e spesso ti porta poi ad esistere se lo tiri avanti troppo a lungo perché ovviamente se non hai un ingresso fisso quello che faccio qui è allora sostanzialmente inizio a lavorare rispondendo alle decine di mail che arrivano perché poi la cosa bella della custale è che lavorando con istituzioni anche all'estero bella bella e brutta perché quando lavori con l'America ti scrivono di notte e tu dici no basta non ce la faccio più però in realtà poi almeno la mattina c'hai un gruzzoletto di cose da risolvere da sbrigare di quelli che a New York stanno di attivi e questo poi sostanzialmente quello che facevo prima insieme all'assistente curatrice o curatore del momento è cercare di rendere possibile la mostra in qualsiasi modo nel senso che ti occupi della produzione andando a vedere il colore delle tende che vuole mettere per fare l'installazione mandare 60 foto diverse con la luce del sole senza luce del sole poi vai da quell'altro che si occupa di legno e vedi qual è la venatura che le piace di più e come lo deve coprire poi vai dal framer fai tutte queste cose qui che rendono possibile poi la produzione cioè quello vuol dire seguire la produzione di una mostra così come occuparsi ovviamente è una cosa che puoi trovare divertente o meno però dei trasporti quindi se facciamo ad esempio in questo caso una mostra di opere per metà nuove per metà preesistenti chiederemo alle gallerie che rappresentano quell'artista di mandarci quei due quadri o quella scultura e quindi lì ti occupi anche di questi aspetti del trasporto e poi sicuramente l'altro aspetto molto piacevole è quello di accoglienza che veniva soprattutto prima non tanto dei visitatori casuali ma delle scuole dei ragazzi che vengono qui incuriositi dallo spazio e quindi più volte mi sono trovata a raccontare che cos'è la costalle a un gruppo di studenti che andavano in giro aprivano facevano chiedevano e quello è molto bello molto stimolante perché ti rendi conto che davvero c'è voglia o c'era voglia di conoscere questi questi spazi e quindi ti senti un po' più utile tu in quello che stai facendo nel modo in cui lo stai comunicando e poi ovviamente a tutto questo si associa un mondo di cose che ci portiamo dietro ognuno personalmente nel senso che anche io i miei progetti come indipendente scrivo come ha detto Simone quindi adesso un po' meno però quando c'erano le mostre da vedere tendenzialmente vai in una mostra la vedi la recensisci e un'altra cosa che mi ha portato a fare il lockdown che è molto carina siccome non c'erano le mostre da recensire ma mi piace tanto scrivere ho pensato di fare delle piccole interviste con degli artisti attraverso Skype che loro si trovano nei loro studi quindi parliamo del loro lavoro non è niente di originale però il modo in cui sto riuscendo a farlo poi ve le mando si chiama il magazine si chiama Contemporanea ed è un magazine portoghese però ovviamente anche in inglese e bilingue e faccio delle chiacchiere senza problemi senza farsi troppi insomma convenevoli con questi artisti nei loro studi e quello era il modo che lì per lì durante la quarantena mi ha un po' soddisfatto questo bisogno di scrivere che ho così come magari può essere un podcast che magari farò lo sa a breve queste cose così insomma ecco se hai altre curiosità dimmi sono stata un po' generica quello che mi veniva in mente va bene grazie era proprio per entrare nel vivo del ruolo perché comunque ci siano tante cose alle quali dover pensare e risolvere penso che sia proprio una questione di dover risolvere determinate piccoli problemi e anche una cura del dettaglio sì la cura del dettaglio è sicuramente qualcosa che è bene avere dall'inizio nel senso che se dall'inizio del processo di realizzazione di una mostra ti occupi in maniera quasi maniacale di tutti i dettagli forse riesci ad arrivare con meno cose da risolvere dal momento in cui ti arrivano le opere lì se invece la fai un po' così è normale che poi ti dovrai sbattere tantissimo gli ultimi giorni io che invece come dicevo prima da ragazzina avevo questa voglia pazza di catalogazione cioè appena iniziamo a lavorare su una mostra mi faccio gli excel stampo tutto sembra che mi piace avere i fogli le cose organizzate quindi poi ovviamente gli imprevisti succedono anche se sei la persona più organizzata ancora più organizzata di me perché il trasportatore si perde l'opera piuttosto che quell'altro ti dice ah perché volevi questa ma no non avevo capito quindi non ti manda qualcosa quindi tu dici ok allora non lo mettiamo facciamo un altro modo e questo succederà sempre Simone lo sa anche meglio di me si è trovato a fare mostre con ingenti numeri di opere insieme lì è proprio la cosa migliore per quanto mi riguarda del lavoro curatoriale è lavorare a stretto contatto con un artista che ti permette di conseguenza di sviluppare con lui l'idea di seguirlo è quello che volevo dirle cioè il rapporto con l'artista poi come è deve essere intenso comunque sì è intenso però comunque l'importante è non voler lavorare con qualcuno perché è un nome da inserire sul tuo curriculum tu vuoi lavorare con qualcuno perché con quella persona non solo stimi di quella persona non solo stimi il lavoro ma ti trovi anche ovviamente a un'affinità obiettiva con questa persona quindi riesci a parlare a comunicare se c'è questo sarà una persona con la quale per te è facile parlare quindi non è che prendi la diva di turno che oddio no non lo so cioè nel senso se ti trovi bene e perché sei simile a quella persona lavorare con un tipi così beh venga però anche quello nella scelta delle persone con le quali lavori ti circonderai sempre di persone poi questo è auspicabile che un po' hanno la visione simile alla tua cioè questo ti consente di sì questo ti certo certo questo ti consente di velocizzare il lavoro perché riesci a parlare in maniera più semplice lui ti capisce lei ti capisce tu anche capisci le proprie esigenze si si instaura un rapporto di fiducia quindi lavorare con un artista in vita dico in vita perché prendo sempre in giro Simone che spesso lavora anche con artisti storici quindi lo ripeto più difficile perché lì poi ti rapporti con le famiglie con le case con l'estate wow invece con l'artista giovane in vita con la quale c'è affinità elettiva che vuoi fare questo ok proviamo no questo non si può fare non esiste ok proviamo a fare questa ah fantastico allora sfondiamo questa parte ok c'è un modo di essere parte del processo che è sicuramente stimolante per chi se si trova a fare il curatore avrà sicuramente una mente creativa una voglia di mettersi un po' in gioco da questo suo aspetto e fare invece realizzare delle collettive non è che sia deprecabile assolutamente no perché danno voce anche a quello che può essere un pensiero un concetto del curatore però è più complicato a volte perché non ti non ti trovi a gestire diciamo un singolo artista ma piuttosto gallerie spazi artisti che ti devono mandare semplicemente l'opera perché è una collettiva quindi più di tanto non gli si può richiedere nel senso gli chiedi la partecipazione loro li conosci e tu ce li metti dentro punto quindi è un lavoro più di organizzazione che di reale produzione di artista creativa diciamo buonasera ah vai vai Matteo scusa volevo chiederle sulla base dell'ampia gamma di fenomeni artistici che lei sicuramente ha modo di di analizzare come vede che sta cambiando che prospettiva ha la fruizione dell'arte forse è collegato anche al discorso che faceva precedentemente riguardo al periodo del covid che forse sta accelerando un processo di defisi di satisfazione che si può dire dell'arte quindi quanto i musei avranno ancora il ruolo che hanno avuto finora se magari evolverà in un altro modo penso anche ai legami non solo dell'arte da sola ma anche ai legami col mondo della moda penso a Sotheby che la casa d'aste che qualche anno fa ha esposto con una casa d'abbigliamento insieme delle opere d'arte adesso non mi ricordo esattamente il nome per promuovere e quindi creando dei riferimenti proprio molto 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 forti con la moda ecco quanto sta cambiando quanto si sta globalizzando questo modo di vedere l'arte e come lo vede lei allora è una domanda sicuramente interessante anche per il fatto che prima abbiamo citato appunto il lavoro di un artista ho visto la domanda di Filippo poi rispondiamo anche a Filippo il lavoro di un artista che si è prestato ha prestato il suo lavoro a un ambito come quello della moda appunto commercial per Gucci piuttosto che è sicuramente un ambito importante in crescita sappiamo da anni che ci sono dei brand come Trussardi come Prada che hanno degli interessi molto forti nell'arte interessi anche piuttosto sinceri nel senso che quello che ha fatto Trussardi attraverso la curatella di Massimiliano Gioni nel ospitare in luoghi milanesi anche da riscoprire inconsueti che non erano mai stati aperti delle mostre è sicuramente qualcosa di molto importante di molto utile quello che invece ha fatto Prada è stato dare un museo di arte contemporanea a Milano nel senso che non è sicuramente qualcosa da sottovalutare ricordo sempre che Prada aperto una mia amica lavorava al suo interno il primo anno era così assurdo o così poco noto adesso magari lo diamo per scontato che fondazione Prada fa arte però il primo anno che ha aperto questa mia amica che lavorava lì una signora si avvicinò e gli ha detto ma dove sono i vestiti cioè ma cos'è cos'è questa roba perché voleva vedere i vestiti e quindi questo sforzo anche di cambiare un po' l'immagine del brand attraverso quella che poi è una passione sicuramente sentita molto direzionata nel senso vediamo gli acquisti che ci sono in collezione che sono del tutto rispettabili l'amore che c'è l'antica aveva per lo studio non solo l'esposizione ma lo studio ci sono dei volumi dentro Prada dei volumi dei cataloghi delle mostre che sono meravigliosi cioè veramente sono dei dei compendi degli studi interessantissimi un altro brand che sta adesso per sempre per parlare di moda che abbiamo citato prima è Gucci che si sta un po' aprendo però non so se lo sta cioè è ancora in divenire quindi non è facile decretare la maniera in cui lo sta facendo perché ad esempio Gucci ha finanziato la quadriennale di Roma e ha permesso a chiunque qualsiasi visitatore di entrare gratuitamente alla quadriennale e questo ovviamente è un primo non il primo ma uno dei primi esperimenti attraverso i quali Gucci sta cercando di supportare l'arte contemporanea soprattutto e lo sta facendo anche con quel magazine che vi ho citato prima di Frankenstein perché ha supportato l'idea dei ragazzi lo fa in ambito soprattutto giovani artisti milanesi però insomma ci prova quello che farà il museo futuro non te lo so dire magari possiamo chiedere anche l'opinione di Simone in merito che dici ci dia ovviamente è una domanda molto ardua e difficile prevedere il futuro io rispetto a quello che dicevi tu in precedenza su sugli esiti di questo periodo che abbiamo vissuto che continuiamo a vivere io credo che in realtà ci saranno delle conseguenze penso che questa dimensione di intreccio fra reale diciamo fisico e virtuale che comunque è sempre un'altra forma di realtà penso che continuerà si intensificherà sempre di più per cui anche i musei credo che rivedranno molto la loro offerta per un tipo di fruizione da remoto ma non mi sento di sbilanciarmi troppo oltre questo questa asserzione così generale nel frattempo questione tecnica sulla chat è stato pubblicato il link per il modulo di presenza che vi invito a compilare scusate ma devo fare anche questo no no è importante tra l'altro per tornare un attimo alla domanda di Filippo Conti possibile sapere il nome dei fumetti di Giulio Scalisi allora lui non ha un fumetto tutto suo partecipa appunto a questo Frankenstein magazine che trovi online e poi ha anche realizzato il fumetto all'interno del numero di flash art dedicato ai fumetti e si chiama Bomba il suo fumetto e poi ha fatto anche i fumetti per Gallina Svaldrina ad ogni modo tutte queste cose che ho detto le trovi sul suo sito scrivi Giulio Scalisi ti esce anche quello carino nel senso a livello proprio per pensare a quello a cui stavamo pensando poco fa perché lui ha la parte art e la parte commercial e quindi tu clicchi in base a quello che diciamo il tuo interesse in quel momento e vedi tutte le sue esperienze precedenti perché anche lui non sarà sempre di mischiare lo sponsor di Gucci con il video sui ragazzi che si deprimono davanti ai social media insomma una cosa è la ricerca una cosa è la tua estetica che presti a un brand che ti chiede appunto di fare un video con le scarpe nel frattempo siamo arrivati quasi alla conclusione mancano cinque minuti e quindi se ci sono ancora domande ora o mai più ora o mai più terribile questa sentence si usa pure ai matrimoni tipo quando parli adesso forse ancora eh guarda qui c'è qualcuno ah no non è vero è una questione tecnica va bene comunque potremmo dire che se non ci sono domande dopo queste due ore potremmo anche non so te la faccio io un'ultima domanda scusami a questo punto no una domanda io che volevo andare no una domanda anche personale nel senso che nel nel corso del della tua carriera quali sono stati gli incontri che ti hanno segnato di più non solo con gli artisti ma anche con critici curatori insomma il nostro lavoro ci ci permette di fare moltissimi incontri e volevo sapere quelli che per te erano stati fondamentali fondamentali interessante allora così su due piedi mi vengono in mente soprattutto i ruoli di persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare che però mi hanno insegnato tanto nel senso con il loro modo di approcciarsi al lavoro ho proprio scoperto qual era il più affine al mio ho lavorato ad esempio mentre facevo l'università ho fatto questo stage non è molto attivo adesso anzi da un bel po' che si chiama la galleria che si chiama Claudio Guenzani Guenzani la galleria d'arte contemporanea che è stata fortissima negli anni 90 un po' nel 2000 ho lavorato con lui a Milano scusate Milano ed è stato proprio mi ha aperto un po' la testa per quanto riguarda il modo con cui lui si approcciava sia agli artisti sia al mondo del lavoro della vendita aveva un approccio che mi aveva colpito per l'onestà e successivamente è stato anche importante sicuramente formativo anche la mia esperienza all'estero sempre mentre ero all'università ho fatto due Erasmus in un anno perché l'ombrera era un po' soffocante qui possiamo usare soffocante direi perché lo era e uno di questi Erasmus l'ho fatto a Berlino nella galleria Kurt Lude oggi si chiama Kurt Lude quando l'ho fatto io si chiama solo Kurt perché è fondata da Jennifer Kurt che è questa persona questa donna fantastica a tutto fare che ha 36 anni 35 ha deciso di andare a Berlino di aprire la sua galleria col suo nome e di fare le mostre degli artisti che amava ovviamente era fatto dopo un periodo di esperienze professionali a Milano aveva lavorato per la galleria Zero e a Berlino ha aperto la sua prima sede adesso si chiama Kurt Lude perché si è aggiunto un socio che permette alla galleria di avere molte più possibilità economiche di realizzare mostre molto più interessanti e anche lì è stato piacevole particolarmente lavorare in quell'ambito con loro perché ho scoperto anche la dimensione familiare che a Milano non esisteva a Milano era sempre tutto una rincorsa alla professionalizzazione all'ostentazione al dover dimostrare qualcosa a qualcuno in maniera patinata mentre a Berlino dove che poi noi italiani lo vediamo dove non si interessano manco di che cosa stanno indossando ai piedi di quel giorno se sono ciabatte se sono stivali però capisci anche la genuinità con la quale fanno molte cose e questo sicuramente mi ha colpito parecchio queste sono due delle esperienze poi tanti artisti giovani con i quali un po' sono cresciuta io e Simone ad esempio abbiamo fatto qualche anno fa ormai una residenza estiva curata dal giacinto di Pietrantonio che è stato così carino da invitare altri quattro curatori uno ero io uno era Simone poi c'era Roberta Aureli e Caterina Molteni che è una curatrice giovane che lei ha fatto campo e adesso è assistente curatrice del Mambo di Bologna mentre l'altra curatrice lavora per la venaria a Reale a Torino e lì ci siamo sostanzialmente fatto una vacanza tra artisti e curatori che andavano un po' al mare un po' pensavano all'opera da restituire alla fine della residenza però anche questo tipo di esperienze sono molto formative perché ridimensioni quel rapporto a volte gerarchico che c'è nel nostro ambito stai lì tutti non per dire in mutande perché stavamo al mare e si chiacchiera di tutto si leggono i libri si fanno si fa il bagno non si parla d'arte e quindi hai più il modo di conoscere le persone in maniera più approfondita e quello sicuramente è stata una delle esperienze nella quale ho costruito anche dei buonissimi rapporti onesti e sinceri a cosenza comunque se vi interessa ma non ve la consiglio la residenza ne io e Simone l'abbiamo consigliata vero? consiglieresti? no non è vero tra l'altro adesso non so ancora se eh non credo non credo va bene nel frattempo temo che abbiamo raggiunto Andrea hai una domanda? se è possibile poter fare io volevo volevo spettare una lancia in favore diciamo del nostro futuro che si prospetta nel campo dell'arte anche mi riferimento alla domanda di Sora in un momento storico in cui si avverte un po' una una disillusione rispetto al progresso visto i risultati che ne abbiamo che ne abbiamo avuti non credo che l'arte si possa interfacciare in modo più autorevole nell'evoluzione sociale diciamo si possa interfacciare in modo più autorevole nel in una relazione tra scienza e tecnologia e si possa nel senso che fino ad ora l'artista è stato sempre un po' nonostante comunque sia intervenuto nell'evoluzione anche dell'industria culturale però si si è interfacciato sempre in un modo quasi soggiocato rispetto ad essa tipo nel campo tipo in figure quali designer o simili credo si possa arrivare a un rapporto in cui appunto l'arte assume un ruolo centrale si occupi proprio dello sviluppo e della ricerca rispetto rispetto al progresso proprio diciamo in un'evoluzione della società un po' utopica magari ok ma quando dici progresso cosa intendi esattamente scientifico tecnologico di cosa stai parlando esattamente cioè l'ambito hai detto non è culturale ma no più che altro un progresso sociologico sociologico progresso sociale rispetto rispetto alla all'ideologia del continuo progresso che abbiamo che è tipica della nostra società ormai del novecento sì se ho capito e penso insomma di poterti dare almeno una risposta così cosa intendi allora guarda sarebbe ovviamente auspicabile perché a livello sociologico la più grande piaga è proprio quella come dicevamo prima un po' tra le righe io e Simone che non è facile oggi avere riconoscimento per l'arte per il mondo dell'arte è proprio un problema sociologico perché non è abbastanza credibilità e questo è un vaso di Pandora che se lo apriamo se ci chiediamo il perché questo avviene è ovviamente un problema di direzionamento di fondi politico eccetera che non ha permesso all'arte di avere la forza tale di imporsi e quindi oggi di sembrare sempre un cagnolino bastonato che deve tirare avanti e deve farcela ovviamente è auspicabile e secondo me l'unico o uno dei modi per farlo è quello di aprirsi il più possibile almeno in questo momento alla didattica nel senso nel cercare di comunicare quello che facciamo senza elitarismi senza fare quelli che si chiudono nel proprio sistema perché il sistema artistico è fatto per pochi perché bla 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 no dobbiamo cercare di essere il più didattici possibile nello spiegare il perché lo reputiamo importante quali sono i nostri valori cosa vediamo di buono in quello che supportiamo e facendo questo anche se in quel momento non stai portando avanti la ricerca filosofica transumanista del momento però stai cercando di ampliare il pubblico che un giorno ti appoggerà le ricerche successive che farai e questo ovviamente è un modo attraverso il quale potremmo cercare di aprire un po' di più gli orizzonti futuri sociologici dell'influenza poi artistica nella società non so se sono stata attinente Simone vuoi dire qualcosa anche tu? No semplicemente ringraziarti moltissimo per la tua presenza per la tua disponibilità penso sia stata una cioè hai offerto una visione di grande prospettiva che si è misurata tanto con questioni di principio alte di sistema quanto anche con la realtà quotidiana della pratica curatoriale che effettivamente è una componente che molto spesso viene dimenticata e penso che anche appunto alla luce delle tue esperienze anche di questa ultima a Lisbona il quadro è stato molto interessante per chi ha partecipato vi ringrazio anche voi per questo grazie a tutti l'Accademia grazie anche l'Angelo che ci ha reso possibile questi collegamenti perfetti grazie a tutta l'Accademia per averci dato ospitalità ci vedremo nelle prossime puntate vi segnalo già la conferenza di Giacinto di Pietrantonio che forse come avete visto si terrà il 22 di gennaio posso partecipare sì è aperto certo assolutamente sì sì tutte le informazioni sul sito dell'Accademia grazie ancora e buona serata chiedono l'indirizzo email glielo dai tu